Ben trovati da Nikos di Trebi Meteo, sarà un finire di settimana con l'anticiclone perché guardate come da ovest dalla Spagna raggiungerà un po' tutto il vecchio continente con stabilità non solo sulla nostra penisola ma anche oltre Alpe e temperature dal sapore primaverile tra sabato e domenica. Andiamo alla prossima grafica, nuvolosità ci conferma una giornata con cieli sereni o poco nuvolosi anche sulla Sardegna, un po' di variabilità al mattino solo tra Calabria e Sicilia ma ormai anche qui. Aumento di pressione, depressione di fatti che dal Marionio si muove verso il Mediterraneo orientale. Andiamo in sintesi a vedere l'ultima grafica, vi dicevo cieli sereni o poco nuvolosi quasi ovunque, temperature del pomeriggio tra 15 e 20 gradi su tutta Italia. Dettagli maggiori come sempre sull'app gratuita di Trebi Meteo.